Maltrattamenti e distorsioni, le codice rosse e danni alle patrimonio costano l'arresto a due pesaresi. L'osservatorio Valerio diventa tema di dibattito tra maggioranza e opposizione, il botta e risposta tra malandrino e pozzi. Lo spazio a Pesaro si sposta alle campus scolastico, arrestato ventenne e sorpreso a vendere Ascis a due ragazzi. Gioacchino Rossini come non lo avete mai visto, le opere di Gioros portano il compositore nella quotidianità pesarese. La 52esima edizione delle Festival delle Gallo d'Oro di Petriano ai nastri di partenza. Saranno tre giorni di musica e spettacolo. Una buona serata telespettatori di Rossini TV e ben ritrovati in questa nuova edizione di Rossini News. Tele giornale di oggi, mercoledì 24 luglio, che apriamo parlando di due arresti che sono stati condotti dai carabinieri di Pesaro nei confronti di due pesaresi che ora si trovano nelle carcere di Villa Fastigi. Si tratta di due motivazioni e di due processi differenti che vedono il primo arresto per maltrattamenti in seguito alla denuncia della moglie che ha fatto scattare un codice rosso nei confronti dell'uomo che aveva già ricevuto un divieto di avvicinamento alla moglie e alla casa familiare. Per quanto riguarda il secondo caso invece si tratta di una condanna di oltre tre anni che diventa definitiva per un cittadino di Pesaro accusato di reati contro il patrimonio, furti e distorsione. E parliamo ora invece di una storica ed importante struttura per la comunità pesarese, ovvero l'Osservatorio Valerio, un osservatorio che attende da anni di ritornare al suo grande splendore. Da qui infatti nasce la polemica e le domande sollevate dalle consigliere di opposizione di Pesaro a Daniele Malandrino. Sentiamo. L'Osservatorio Valerio di Pesaro, nel cuore degli artigiuli, da centro scientifico si trasforma in centro del dibattito tra opposizione e maggioranza, con il tema che verte sullo stato attuale della struttura e dei lavori da fare per renderla agibile. A sollevare la questione è stato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Daniele Malandrino, che ai nostri microfoni ha espresso le sue perplessità sull'argomento, ripercorrendo alcuni passaggi e dichiarazioni passate che parlavano di una riapertura dell'Osservatorio ai cittadini e alla scienza entro il 2022. Qui abbiamo praticamente sfocia il Cardo di Pesaro, quindi storicamente quale via più importante assieme al Decumano. Purtroppo la zona, se uno prova a percorrerla, vede che è tenuta in maniera, secondo me, indegna della storicità e anche dell'importanza. Le stesse mura hanno dei problemi. Mi sono accorto che l'Osservatorio Valerio, praticamente non c'erano più le impalcature, gli infissi sono sempre quelli del 2019. Mi è tornato in mente tutto il percorso che era stato fatto rispetto a un bando vinto in regione, al fatto che è stato approvato il progetto del Comune, al fatto che era stato inserito nel piano triennale delle opere 2020-2022 e al fatto che nel 2022 era stato annunciato sia dall'assessore Pozzi che dall'allora consigliere regionale Biancani, nonché dalla capogruppo in consiglio comunale Anna Maria Mattioli che lanciava il progetto Ui Valerio ed erano stati dati anche delle tempistiche, nel senso che nel 2022 doveva essere reso alla cittadinanza l'Osservatorio Valerio e abbiamo finito con praticamente tutte le opere per l'efficientamento energetico e strutturale completate, cosa che in realtà a mio avviso è tutto chiuso, io non posso entrare dentro e non è stata fatta. La riprova è che ci sono catene, assi che chiudono il portone e sembra tutto in stato di abbandono. Io ho già protocollata una interrogazione insieme a tutto il mio gruppo di Fratelli d'Italia, un'interrogazione con la quale si chiede contessa dei lavori eseguiti, si chiede quando l'osservatorio verrà restituito alla scienza e al pubblico e soprattutto, non soprattutto, è anche cosa importantissima in che stato di conservazione sono i registri dell'Osservatorio Valerio, lì ci sono osservazioni giornaliere degli ultimi 150 anni e la mia paura è che essendo già chiuso da tempo non si sa in che stato sono stati lasciati sia le strumentazioni scientifiche che i documenti, la mia paura è che venga perso qualcosa. Oltre al fatto che questa zona è una zona che secondo me andrebbe valorizzata, è stata una delle zone più belle e soprattutto importanti dal punto di vista storico per la città di Pesaro che è lasciata un po' in abbandono. E sempre a riguardo del tema dell'osservatorio Valerio è arrivata prontamente la risposta ai nostri microfoni anche da parte dell'assessore del Comune di Pesaro, Riccardo Pozzi. In realtà quell'intervento nasce a seguito dell'ottenimento di risorse da parte di un finanziamento della Regione Marche sull'efficientamento energetico di diversi anni fa. Quando ottenemmo quelle risorse il Comune si attivò per andare a definire quello che doveva essere il progetto di efficientamento energetico perché le risorse erano volte quelle e poi si avviò nel 2022, se ricordo bene, il cantiere. Quello che è accaduto è che nella fase poi di realizzazione dei lavori rispetto ad un bene storico di particolare anche valore, di particolare pregio sicuramente che ha una storia, oltre che a essere un bene vincolato e tutelato alla sovrintendenza ci si è accorti di fatto che oltre all'efficientamento energetico sarebbe stato opportuno in realtà intervenire anche sulle parti strutturali e architettoniche dell'edificio. Questo ha fatto sì che in qualche modo, per dare un esempio, era come avere un'auto d'epoca e decidere di andare a cambiare la vernice o comunque la Regione aveva dato i soldi per andare a cambiare la vernice quando in realtà era opportuno probabilmente prima andare a togliere i punti di ruggine dell'auto d'epica per dare un'immagine di quello che era il cantiere, la necessità rispetto a quell'intervento. Ad oggi, come proprio nelle settimane passate e anche in questi giorni stiamo insieme agli uffici tecnici cercando di approfondire e capire quanto risorse servono per andare a rendere funzionale il fruibile l'osservatorio Valerio andando a realizzare quel tipo di intervento che in qualche modo ci consente di avere un luogo efficiente dal punto di vista energetico ma anche sicuro, fruibile e utilizzabile. Quindi adesso andremo nelle prossime settimane a definire meglio quello che è il lavoro che si è già iniziato a fare che però io mi auguro che entro la pausa estiva ci consentirà di avere un quadro degli interventi che saranno necessari in modo tale poi da avviare di fatto un nuovo cantiere che ci consentirà di avere l'osservatorio Valerio fruibile in tutta la sua valenza storica, scientifica che ha quel bene. Un altro aspetto importante è di come l'osservatorio Valerio andrà a dialogare con l'intervento di risistemazione di tutti gli ortiguli. Proprio in questi giorni è in fase di sottoscrizione la convenzione rispetto ai finanziamenti del Bando Iti della Regione Marche dove come Comune di Pesaro tra gli interventi programmati c'è quello di recupero e di restauro di tutti gli ortiguli un intervento di circa un milione di euro che ci consentirà di rendere fruibili, visitabili, aperti in maniera sicuramente più decorosa gli ortiguli. L'intervento prevede il recupero di quelle che sono le scienze storiche, la risistemazione di tutto il Selciato di tutto il percorso pedonale che attraversa gli orti, l'apertura anche verso la città e quindi andando a rivedere quel muro che oggi divide la città via Belvedere dal resto degli orti e quindi dare un senso di traspirabilità a una delle parti verdi più belle della città e portarci gli impianti, gli impianti di illuminazione che lo renderanno sia più sicuro ma al tempo stesso anche come dicevo più utilizzabile per piccoli eventi, manifestazioni, concerti o convegni e al tempo stesso andremo anche a ultimare quel manufatto, il cosiddetto bar, pensato come bar-caffetteria. E dall'osservatorio Valerio cambiamo argomento e torniamo su un tema che in questi giorni abbiamo spesso affrontato su Rossini News, ovvero quello che riguarda la droga. Questa volta però non ci troviamo alle Parco Miralfiore, bensì alle campus scolastico poiché da quanto è emerso sembra che il traffico di stupefacenti nelle pesarese si sia spostato anche nelle aree scolastiche. È stato infatti arrestato dai carabinieri un giovane di 20 anni sorpreso nel vendere asci a due giovani ragazzi per quest'ultimo invece è scattata la semplice segnalazione come consumatori di sostanze. E passiamo ora a parlare del mondo dell'arte ma anche di quello della musica attraverso la figura di Gioacchino Rossini che è stata interpretata dall'artista Gio Rossi in una veste completamente nuova e lontana dai panni che il noto compositore è abituato a vestire. Vediamo il servizio. Un Gioacchino Rossini così non si era mai visto prima d'ora. Lontano dagli ambienti classici e della musica è calato all'interno di bar, gelaterie, parrucchieri, pizzerie. Insomma nel quotidiano di tutti i giorni. Il tutto grazie al lavoro dell'artista Giovanni Rossi in arte Gio Ross che nell'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024 ha pensato di far vivere anche ad uno dei personaggi più celebri della città questa storica nata attraverso le abitudini del quotidiano. Ho cercato di creare un contesto in cui appunto Rossini potesse esaltarsi in ogni attività umana che lo poteva caratterizzare ma allo stesso tempo credo che l'idea abbia a che fare con una sorta di inconscio collettivo e quindi riportare alla luce in qualche modo anche le abitudini di Rossini che era anche un personaggio molto godereccio in questo senso. Questo quadro in particolare mette in evidenza il piacere del caffè il piacere di bere il caffè assume una veste, un colore, un indole particolare però ha a che fare sempre con in ogni caso l'atmosfera della musica ha a che fare con un'entità artistica in questo senso. In questo senso ho cercato di calare la figura, quindi l'icona immaginaria e anche dell'immaginario collettivo di Pesaro quindi attraverso le varie attività, quindi il quotidiano quindi la gestualità e anche le abitudini del pubblico giorno dopo giorno. In questo senso anche per coinvolgere le persone e quindi catapultarle in qualche modo nel mondo di Rossini che appartiene all'immaginario collettivo di Pesaro. Opere, quelle realizzate da Gioros che proseguono un cammino di studio e di lavoro iniziato anni fa dall'artista che si rivolge al mondo dell'intelligenza artificiale. In qualche parte ho adottato un'intelligenza artificiale anche se ho dovuto manipolare molte parti di ciò che ho trovato nel senso che agisco un po' come agivo quando creavo delle forme con la plastilina io adotto anche dei programmi in cui appunto i volti che possono appartenere anche a figure non inerenti a Rossini ma che assomigliano a Rossini non solo delle persone amiche, delle persone che incontro li fotografo e poi li manipolo e li trasformo nella figura di Rossini perché ho trovato dei tratti, delle consonanze che appartengono appunto all'immagine alle tratti fisionomici di Rossini in questo senso il quadro vive sempre come una sorta di collage e nulla sorge d'incanto dunque ho cercato di assemblare tante parti cercando di creare anche delle immagini, come dire, ironiche coinvolgenti e anche in qualche modo vicine quindi al pubblico e soprattutto appunto le abitudini quotidiane di questa città quindi anche in onore di Pesaro Cultura 24 E restiamo sempre in tema di arte e musica ma ci spostiamo per un attimo a Marina di Ravenna dove ieri sera il rapper pesarese Phil Lekoi si è esibito in apertura dell'Underfest portando così Pesaro sul palco di uno dei festival più importanti d'Italia Il festival nazionale dedicato al rap underground ovvero l'Underfest e l'etichetta musicale Glory Hall festeggiano dieci anni dalla loro nascita con un live sulla spiaggia di Marina di Ravenna pieno di artisti e volti noti della scena e dove per l'occasione quest'anno si è esibito anche un pesarese il suo nome è Filippo D'Ambrosio in arte Phil Koi che con le sue rime ha aperto la prima serata del festival È stata una giornata indescrivibile che ho sempre sognato perché è sempre stato il mio sogno entrare in Glory Hall vivere queste emozioni con questi artisti Claver, Murbutu, Sgravo, DJ Fast Cut e tutti gli altri Modder, Filetoi è stata indescrivibile perché dieci anni di Glory Hall farne parte mi inorgoglisce tantissimo in più sono stato il primo perché sono il più giovane la nuova leva l'ultimo ad arrivare l'ultimo entrato e quindi mi hanno fatto giustamente iniziare a me l'apertura mi hanno fatto aprire a me la serata è stata una cosa che ho sempre sognato non vedo l'ora di rifare una cosa simile sono sempre rimasto tra gli emergenti perché ho aperto e diciamo che ho avuto la mia esibizione ho fatto cinque pezzi e dopo di me si sono scambiati tutti gli altri grandi veterani della Glory Hall che sono lì da dieci, quindici anni dipende chi però insomma sì ieri mi sono sentito un emergente per aver fatto l'apertura in questa maniera però mi sono sentito un emergente privilegiato perché comunque fare l'apertura da Glory Hall è stata una cosa bellissima Phil Coy racconta poi di come sia nato l'Underfest e di ciò che ha portato l'evento ad essere una manifestazione di rilievo nella panorama rap nazionale è un festival che nasce da un'idea di Modder e tutti i ragazzi del CISIM con cui collabora Modder dieci anni fa perché infatti ieri è stata la decima edizione l'inizio della decima edizione che durerà fino al 27 di luglio è praticamente un festival che si incentra sul rap underground in Italia quindi ogni anno oltre però a incentrarsi sul rap underground si incentra anche sugli emergenti quindi ogni anno Modder dalla prima edizione l'ha pensata come una sorta di faccio più serate quindi un festival ogni serata chiamo un main o due main a fare la serata principale ma prima dei main faccio dei sci-fi con i ragazzi emergenti da tutta Italia così che do possibilità a loro di emergere e in più c'è il main artist che comunque fa la sua serata e sono tutti contenti insomma è una figata e dalla musica di Filecoi andiamo ora a vedere invece quali sono gli appuntamenti che ci attendono questa settimana a cominciare dalla rassegna pianistica estiva con i talenti della scuola di pianoforte e delle conservatorie Rossini con tre appuntamenti in programma il 26-27 e il 30 di luglio il tutto nella prestigiosa cornice del Palazzo Montani Antaldi di Pesaro e domani invece a Montecchio la piazza del municipio di Vallefoglia diventerà il centro delle più belle danze popolari del mondo portando in pista fermento etnico con il Ball Folk infine per gli amanti della musica e dei castelli vi segnaliamo l'evento musicale Castel Attacca a Gradarine Piazza delle Armi dove domenica 28 luglio alle ore 19 si esibirà il duo statunitense Black Heart Procession e sempre in tema di eventi restiamo perché ce n'è uno che ormai da tantissimi anni fa parte della tradizione della nostra provincia ovvero quello delle Gallo d'Oro che con l'edizione che avrà inizio domani festeggerà la sua 52esima edizione scopriamo insieme che cosa ci attende si avvicina la data del 25 luglio che darà ufficialmente il via alla 52esima edizione del Festival del Gallo d'Oro di Petriano che per tre giorni renderà protagonisti del territorio la musica e soprattutto le voci dei partecipanti con serate ed eventi dedicate a tutte le età ed è un altro bel traguardo che vogliamo superare e ci aspettiamo un pubblico sempre crescente con gente nuova ovviamente perché tutto cambia tutto si rinnova e anche il Festival lo deve fare infatti abbiamo le tre serate il 25, 26, 27 luglio dove iniziamo con la gara Canora dei Bambini quindi il Galletto d'Oro che abbiamo istituito da un anno e fatto questo evento del giovedì sera il venerdì abbiamo dedicato la serata ad uno show anni 90 regalando il Festival si svolge nella stessa piazza che frequentiamo da anni piazza Cavour adiacente al centro civico dove noi abbiamo la nostra sede e aderire al Festival da qualche anno è abbastanza semplice tra virgolette soprattutto aperto ai giovani perché loro hanno una dinamica diversa sui social e è lì che abbiamo realizzato le nostre maggiori selezioni e iscrizioni perché da qualche anno siamo noi ad andare verso il cantante per la selezione e non il cantante da noi che verrà poi nella fase finale del Festival ovviamente però da qualche anno facciamo delle selezioni itineranti nell'entroterra sulla costa del mare anche a Pesaro e quindi cerchiamo di trovare il cantante dove lui preferisce meglio esibirsi da lì la selezione poi lo porterà al Festival vero e proprio e lo si fa facendo un'iscrizione sulle nostre piattaforme social Facebook e Instagram ed ora 52esima edizione delle Festival del Gallo d'Oro che poi nella serata di giovedì e di sabato di questa settimana potremo rivedere il prossimo weekend anche sulle canali 80 di Rossini TV integralmente con le due serate ora andiamo a vedere qual è la programmazione in onda sul nostro canale a cominciare subito dopo questa edizione del nostro telegiornale con la natura della Cultura Magazine tutti lunedì mercoledì e venerdì vi ricordiamo gli orari alle 8 della mattina alle 13 e alle 20 e vi ricordiamo anche il riassunto della settimana nelle giornate di sabato e di domenica la nostra prima serata che come ogni mercoledì avrà amministrando il nostro programma di politica che in questo caso dopo le elezioni si occupa di conoscere i nuovi sindaci del territorio questa sera ospite di Luigi Benelli ci sarà la sindaca di Gabizio Mare Marila Girolomoni alle ore 21 e 20 e vi ricordo il nostro consueto spazio informativo della mattina con la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali buongiorno Rossini vi aspetta domani mattina alle 7.20 in diretta anche su Facebook sulla nostra app e sul nostro sito domani mattina ci sarà la nostra direttrice Emanuela Rossi ed è davvero tutti vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti